Da più di un secolo, una certezza nel panorama brassicolo del Belgio, ACT ci presenta la sua novità per la quinta edizione di Birra Trache. Buongiorno, dunque la nostra novità di quest'anno sarà la quarta Super 8, dunque Super ACT, ACT in fiammingo significa 8 dunque, e si chiama la Super 8 Saison, dunque una birra stagionale disponibile tra il mese di aprile e fine il mese di settembre, una birra di 4.8 di gradazione fatta con 5 cereali diverse, lupolo dal Belgio solamente e beverina con un gusto soprattutto di zenzero e galanga, dunque abbastanza speziata. A quali piatti si può abbinare questa birra? Beh, si può abbinare con il formaggio, ma pure il risotto e soprattutto la carne bianca e sicuramente può aiutare a una digestione ottima. Come si dice cincini in fiammingo? Gesundheit! Grazie!